Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo questa maglia che secondo me è molto bella. Questa è la seconda del Chelsea per la stagione in corso. In edizione fan, l'edizione player, l'avevamo già vista. Trovate qui in alto la recensione. Alla prossima. Questa maglia non mi dispiace. Mi fa riflettere tantissimo il fatto che squadre come il Chelsea abbia dovuto attendere diversi mesi per avere un main sponsor. Questo ci sta facendo capire che deriva sta prendendo il calcio, sempre purtroppo con meno interesse. In sovraimpressione vedete il costo. Vi ricordo che qua sotto trovate tutti i riferimenti per ottenere la maglia. Mi raccomando, andate a vedere perché sempre qui sotto trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari. Quindi il costo diventa ancora più basso. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Prima però, come al solito, vi chiedo iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, ma ci permette di offrirvi, di mostrarvi tutti i giorni maglie come questa. Alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. Ciao!